Io abito lì a 150 metri, ho sentito il botto, un'esplosione proprio. Venendo fuori ho visto che c'era il fuoco alto 80 cm che per scopo aveva buttato via il portoncino da entrata. E dopo un attimo è partito tutto. Alle 7.45 a Lobbia di San Giorgio in Bosco tutti hanno sentito l'esplosione nella villetta di Enrico e Norma Fontanella in via Sant'Antonio e visto le alte fiamme circondare la casa. Gli operai di una ditta vicina sono accorsi ma a tentare di strappare i due coniugi alle fiamme era davvero rischioso. I due anziani non hanno avuto scampo. Il corpo di Enrico Fontanella, 87 anni, originario del Varesino, ex agente di commercio, è stato trovato in soggiorno. Quello della moglie Norma Todesco, 83 anni, di origini veronesi, nel letto. Da qualche anno era invalida a causa di un ictus. I vigili del fuoco sono arrivati da Padova e Cittadella con due mezzi, con l'unità antinquinamento e ben 16 operatori, con loro i carabinieri. Quasi di sicuro la causa dell'esplosione è una fuga di gas che deve avere saturato le stanze della villetta. Un quotidiano normale domestico innesco elettrico ha provocato la deflagrazione e quindi le fiamme. Esclusa l'eventualità di un gesto volontario. Discreti e gentili, lui ancora autosufficiente, da qualche anno si prendeva cura della moglie, guidava l'auto quel tanto che serviva, per la spesa. Una coppia che stava economicamente bene. Per qualche anno della loro vecchiaia avevano preso l'abitudine di trascorrere l'inverno al caldo alle Canarie, per poi fare rientro in tarda primavera nella loro casa di lobby. Grazie. Grazie. Grazie.